Teatro delle Muse? Letizia Lazzarotto Vivente a Chiaravalle, lavoro qui a Teatro delle Muse da 10 anni Vende la casa che è nostra da tanti anni, mi dispiace La sua paese è tranquilla, arrivi ad Ancona facilmente nel giro di poco tempo Non ho mai pensato di venire veramente ad abitare in Ancona Però la città mi piace, è bella, bellissima, secondo me Gli altri, c'è degli scorci stupendi, dal passetto, le parti vecchie, San Cirico È bellissimo, infatti dico, il passetto e la sua è una cosa meravigliosa Mi è capitato una volta di vedere l'alba al passetto, è qualcosa di meraviglioso Era presto, però era bellissimo